Sono stati identificati e denunciati all'autorità giudiziaria i tre soggetti protagonisti di una rissa lo scorso 5 luglio nel parcheggio di un supermercato di Barcellona Pozzo di Gotto. I poliziotti del commissariato, una volta presa la notizia della rissa, sono immediatamente intervenuti avviando le indagini che in pochi giorni hanno dato un'identità ai responsabili del grave episodio di violenza urbana. Gli accertamenti eseguiti hanno evidenziato la spregiudicatezza con la quale i tre soggetti, di età compresa tra i 23 e i 25 anni, nella mattinata del 5 luglio hanno raggiunto il parcheggio del supermercato a bordo di automobili e la violenza con cui hanno dato luogo l'aggressione armati di spranghe e mazze da baseball. Ulteriori verifiche hanno confermato che due dei tre individui, a seguito delle lesioni riportate, si sono recati presso il pronto soccorso degli ospedali di Milazzo e del policlinico di Messina, dove sono stati riscontrati traumi di vario genere, escoriazioni, ferite ed ecchimosi. Entrambi sono stati giudicati guaribili con una prognosi di 10 giorni. Rinvenuto e sequestrato dai poliziotti, uno dei bastoni utilizzati, ancora sporco di sangue.